... Veni informiamo a tutti i concorrenti che dopo la gara con circa un quarto d'ora faremo la premiazione qui sul talco, giusto? sul talco, quindi tutti i concorrenti, tutti gli spettatori possono venire qua a vedere la previazione che era una bella cosa Scusa Scusa va bene, ok Silvio, non ti ne mancano Dimmi 3 Si prepara intanto Favatore Barbata Geraci Leonardo e Musso Pasquale Questa è la vostra, tutti i tre concorrenti della giornata Tutte e tre in bragriglia così ci spieghiamo Quindi abbiamo gli ultimi tre concorrenti Salvatore Barbata Geraci Leonardo e Musso Pasquale Questa è la vostra Primo giro Un minuto